Allora, per i puristi della raccolta di funghi diciamo che il cesto della raccolta è questo, e come vedete, cioè di fuori ce n'è belli e sono grandi, no? Poi dopo l'abbiamo dovuti mettere, siamo nella bauliera della macchina, in un contenitore foderato di plastica, ma perché qui giustamente le spore, anche se non ci attaccano nella bauliera, che va bene uguale, che ne dite, eh? Siamo tutti d'accordo amici?